mercoledì 23 agosto buona giornata a tutti dalla redazione di tv 12 ben ritrovati in diretta con nostro primo appuntamento di giornata tra poco andremo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali i primi aggiornamenti ma partiamo con la cronaca con un incidente che si è verificato nel corso della notte in comune di San Giorgio della Ricchinvelda nella frazione di Provesano lungo la ex strada provinciale 10 per causa in corso d'accertamento si sono scontrate due vetture sul posto ai sanitari del 118 con ambulanza automedica e le due persone ferite sono state prese in carico e trasferite in codice giallo in ospedale a San Vito al tagliamento questo dunque il primo aggiornamento sul fronte cronaca partiamo con i quotidiani andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera allarme su Europa e Conti questo è il titolo in apertura migranti in Italia oltre 20 mila minori non accompagnati la strage di profughi nei roghi in Grecia il ministro Fitto il patto di stabilità non si torna indietro sulla denatalità aiuti per chi ha tre figli le altre notizie dall'Italia pensioni fisco sanità le strettoie della manovra e poi i selfie le foto sui social l'estate di Giorgia e Matteo di spalla abbiamo la tema del nucleare con l'acqua di Fukushima nell'oceano l'ira della Cina a 12 anni dal disastro a centro pagina invece la foto ci porta alla scomparsa di un grande della musica italiana Toto Cutugno cantò l'Italia addio all'artista che ha venduto 100 milioni di dischi ancora le altre notizie confessioni pianti e la difesa in rete dopo la violenza a Palermo i ragazzi accusati di stupro e poi la New York Times che sfida l'intelligenza artificiale non si addestri con i nostri articoli ci spostiamo ora sulla prima pagina di Repubblica Conti Meloni teme l'Unione Europea l'allarme del ministro Fitto se si torna alle vecchie regole l'Italia rischia a settembre riprendono le trattative ma c'è il muro della Germania il governo dovrà mettere a punto una manovra senza risorse con l'incubo di una pil sotto l'un per cento i tagli previsti su scuola e sanità la banca centrale europea due candidati di Roma per sostituire panetta l'imbarazzo in Europa e poi ancora gli esteri Putin parla ai BRICS per spingerli lontano dal dollaro incontro dei paesi non allineati ancora centropagina vannacci tour per il libro e la lega giallo corteggia l'operazione studiata a tavolino in chiave anti fratelli d'Italia e poi passa da Cipro la nuova rotta di chi vuole chiedere asilo andiamo ora sulla prima pagina della stampa di Torino Unione Europea niente sconti sulla manovra Meloni l'Italia si abitui ad una premier mamma Salvini difende ancora vannacci il governo è diviso fitto cerca margini con il nuovo patto di stabilità al gelo di Bruxelles Leo aiuti per chi ha almeno tre figli a centropagina la strategia globale dei BRICS a caccia di nuove maggioranze cresceremo per battere il G7 il vertice in Sud Africa senza Putin nel duello tra Cina e India lo sport ne parleremo più tardi Tamberi che salta sul mondo Jimbo suona la batteria e vince il titolo ridato quota 2 e 36 ai mondiali di Budapest. Vediamo ora la prima pagina della sole 24 ore i temi economici oltre il 90% del solare è cinese la filiera del fotovoltaico dal 2011 Pechino ha investito 50 miliardi di dollari per avere il dominio nel settore ma anche per produrre energia solare c'è un impatto ambientale significativo. Tokyo sta per scaricare le acque di Fukushima nell'oceano ci sono le proteste della Cina decenni dopo l'incidente alla centrale nucleare. Sul tema pensioni la partenza da quota 103 bis l'APE e il mini piano giovani. Il cantiere della manovra sul lavoro sgravi per welfare e premi bonus per gli asili chiesti 40 miliardi dai ministeri. Vediamo ora la prima pagina del fatto quotidiano. Un'alluvione di balle 60 milioni su 4,5 miliardi. I numeri della Meloni speso in tre mesi solo il 5% dei soldi stanziati. La robagna abbandonata, la gran parte dei fondi è spalmata su tre anni ma per spenderli mancano procedure ed i PCM. Tutto fermo su case e argini intanto si rischia l'esodo. E poi ancora ci sono altre notizie richiamate nella colonna sinistra. Il coautore Meluzzi Meloni non dice più certe cose, sta con i poteri forti. Rischia nuove elezioni in Spagna l'incarico a Feo sfumato, il bis di Sanchez. Disastri sui migranti, l'accoglienza l'ha distrutta Salvini ma la Lega Strilla. Vediamo ora la prima pagina dell'identità al quotidiano di Tommaso Cerno. Sim Sala Bricks, altro gioco di parole per tornare al vertice dei paesi emergenti che guardano alla Cina mentre l'Occidente fa la guerra, il mondo cambia formula e non più agli Stati Uniti. Fra l'ipotesi di una nuova moneta, la dedollarizzazione dei mercati e l'obiettivo di conquistare l'Africa, intanto l'Europa vive una crisi politica, economica e sociale. Per quanto riguarda poi le altre notizie si ritorna sul caso Vannacci con il perché il governo alle prese con la crisi litiga per un generale in cerca d'autore. C'è la lettura di Domenico Pecile. Andiamo avanti con la prima pagina di Libero. Il francese che voleva comprare l'Italia. Il gioco sporco di Sarkozy nel suo libro. L'ex presidente svela la manovra ideata con la Merkel per far dimettere Berlusconi. E poi ancora Giorgia e Palazzo Chigi è un ottovolante. La Premier Meloni si confessa chi, ma io non scenderò. Vediamo ora anche il giornale. L'apertura. Magistrati in vacanza, 7 euro al giorno nel Paradiso Off Limits di Pianosa. Le toghe fanno a gara per alloggiare in foresteria mentre l'isola è sotto inchiesta. E poi ancora Toto Cutugno, l'addio all'italiano vero che portò la nostra canzone nel mondo. Priorità, lavoro e natalità ora si tratta sul patto dell'Unione Europea. Vediamo ora la verità. La manina di Mattarella nella guerra al generale è cominciata la rivolta contro il pensiero unico. E poi ancora l'italio alto, soldi esteri sospetti e società fantasma per l'affare delle armi curato da D'Alema. Il luglio, più caldo di sempre, è più freddo del luglio scorso. I dati di Terna smentiscono l'eco buffa, le calo di 0,3 gradi rispetto al 2022, pure i consumi elettrici come a giugno. Il foglio. Le tesi antiscientifiche, la propaganda cinese contro il piano di Tokyo per Fukushima è sicuro, ma lo stigma nucleare sembra indelebile. Ribaltone i migranti, la grave situazione degli sbarchi sta provocando un gustoso gioco di specchi tra opposti populismi. Il PD rimprovera la destra di non fare cose di destra e la destra fa esattamente quel che faceva la sinistra. Il manifesto ecce homo, le violenze degli uomini sulle donne si ripetono, la destra farnetica di tour delle vittime nelle scuole e castrazione. Avanza anche una nuova legge penale sui femminicidi, ma la risposta solo repressiva ha sempre fallito. Grecia, 18 migranti carbonizzati brucia l'area di confine con la Turchia dove si nasconde chi riesce a superare il muro di Evros e poi le voci dallo spot di Lampedusa alle porte aperte alla stampa. Veniamo alla gazzettino. Aiuti a famiglie e imprese, la manovra, il governo studia gli incentivi, tasse più basse per chi assume le mamme, l'aliquota del lire si ridotta dal 24 al 15 per cento, chi darà lavoro a donne con almeno tre figli. A centropagina, preso a Marghera, il chirurgo estetico con la terza media, era ricercato fino ad Hong Kong, era a casa, lavorava in un hotel come inserviente. E poi i migranti, l'appello della Lega militari ai confini del nord-est. All'interno delle pagine del gazzettino andiamo a vedere anche le notizie legate al nostro territorio, a partire da un importante compleanno celebrato ieri, quello di Paola Del Din, medaglia d'oro al valore militare festeggiata a Sappada, nella sua casa per le vacanze stile. Fiori e tanti auguri e sorrisi sono destinati in quest'ora a Paola Del Din, che festeggia i suoi cento anni. Unica medaglia d'oro al valore militare della resistenza vivente in Italia e l'unica ad aver raggiunto il traguardo del secolo di vita. Simbolo della lotta di liberazione dal nazifascismo, prima donna paracadutista in Italia, Del Din sta trascorrendo il suo centesimo compleanno nella località di Sappada, circondata da familiari e amici. Una celebrazione ufficiale del centesimo genetriaco in programma a Udine il 2 settembre, con gli interventi delle autorità civili e militari. A Sappada, nelle scorse ore, l'hanno festeggiata anche l'assessora comunale all'istruzione famiglia, Stefania Pilerhofer, il comandante delle truppe alpine, Ignazzo Gamba, il comandante del secondo stormo dell'aeronautica militare, Paolo Rubino, e il sindaco di Udine, Alberto Felice Dettoni. A fargli gli auguri è anche la premier Giorgia Meloni, che scrive ho avuto il piacere di incontrare più volte e conoscere questa donna straordinaria, patriota e medaglia d'oro a valore militare, per il coraggio dimostrato durante la resistenza nelle file delle Brigate Osoppo. Oggi tutti noi, scrive Meloni, le facciamo i nostri auguri e la ringraziamo per la sua costante testimonianza di amore per la patria e per la libertà. Una combattente, oggi come allora, con tenacia e impegnata a raccontare la resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, guidata dall'amore per il proprio Paese, sottolinea nel suo messaggio di auguri il governatore Massimiliano Fedriga, scegliere di credere nei propri valori e anche mettendo a rischio la propria vita, un esempio per tutti noi, ma soprattutto per i nostri giovani. Il nostro augurio, afferma in una nota l'Associazione Partigiani Osoppo, è che Paola continua ancora per molto in questa coraggiosa testimonianza di libertà che è stato il patrimonio delle Brigate Osoppo prima e dell'Associazione Ancora Oggi, un grazie che sentiamo nostro, ma anche del nostro Friuli e dell'Italia intera. Anche il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini, a nome dell'amministrazione comunale di tutta la cittadinanza, si è congratulato con Paola Del Dine, cittadina onoraria del capoluogo carnico, per questo nuovo obiettivo raggiunto. Ritroviamo proprio la foto della Meloni assieme a Paola Del Dine all'interno delle pagine del Gazzettino. Andando a scorrerle poi c'è la questione dei migranti che torna ad attualità con il segretario regionale della Lega, Dreosto, che chiede di far intervenire l'esercito per la presenza massiccia dei migranti in Friuli. Occorre blindare i confini, dice, è un nostro diritto fare respingimenti. Sul fronte a accoglienza da Trieste a Pollenone, finiti i posti, previsto un incontro con la Ministra della Difesa a Crosetto. L'apertura del dorso regionale del Gazzettino ci porta alla Crona, che in apertura lo schianto in moto, muore a 33 anni, l'incidente a Santa Maria La Longa, senza altri veicoli coinvolti, la vittima è Marco Zonta. Due le comunità in luto, quella di Bagnari Arsa, comunità di residenza del ragazzo, e quella di Palmanova, cittadina in cui lo stesso era volontario di protezione civile e anche rappresentante dei figuranti che tornano ogni anno a esibirsi nella rivocazione napoleonica, proprio nella città stellata. Andiamo a sentire i dettagli nel servizio. Un uomo di 34 anni, Marco Zonta, di Sevigliano di Bagnari Arsa, è stato trovato senza vita nella tarda mattinata a bordo strada, in un fossato, nel territorio comunale di Santa Maria La Longa, in via Casali Marcotti, da due persone che stavano passeggiando e che avevano notato una moto a terra. I passanti hanno subito chiamato il numero unico di emergenza, NUE 112. Le infermieri della struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto ambulanza e automedica, attivando anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Palmanova, ma purtroppo al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto far altro che decretare il decesso del giovane. Alle forze dell'ordine il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente, stando ai primi rilievi dei carabinieri, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma del Centauro, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Profondo il cordoglio della comunità Bagnarese, ma anche di quella palmarina. Il ragazzo faceva parte da anni del gruppo comunale di protezione civile di Palmanova ed era uno dei figuranti della rievocazione storica. Un enorme dispiacere per un ragazzo a cui tutta la nostra comunità voleva bene, commenta il sindaco della città stellata, Giuseppe Tellini. Un giovane impegnato nelle associazioni, sempre con il sorriso. Uniamoci tutti, continua Tellini, attorno alla famiglia e agli amici più stretti, al gruppo storico dei rievocatori di cui faceva parte attiva. Marco, oltre che un grande amico, era un pilastro del gruppo storico città di Palmanova, commenta il segretario Giacomo Tonini. Lascia un enorme vuoto, non solo tra noi, ma anche tra i tanti figuranti esteri che l'hanno conosciuto. Stiamo ricevendo chiamate di cordoglio da tutta Europa. Torna sulla prima pagina del gazzettino del Friuli Venezia Giulia, si parla del caldo che blocca i cantieri, impossibile lavorare. Gran parte delle imprese Edith ha deciso di sospendere i lavori. Sul fronte ai malori invece 400 telefonate di emergenza, intanto arrivano le notti tropicali. Dalle pagine del gazzettino, ora ci spostiamo su quelle del messaggero Veneto, andiamo a vedere l'apertura del quotidiano dedicata al Friuli. Il titolo in apertura è Il patto contro il caro prezzi, la stagione turistica, i costi che stanno incidendo sul giro d'affari in regione. L'assessore Bini, certe tariffe sono inaccettabili. E poi a centropagina le due storie di Cronaca. Una l'abbiamo vista poco fa nella bassa, esce di strada in moto, trovato morto dai passanti, dall'altra in montagna, cade nel dirupo e muore sotto gli occhi del fratello successo in comune di Pontebba. Le altre notizie di Cronaca richiamate in prima, troppo caldo in reparto, un piano per trasferire 40 pazienti in ospedale a Udine. Poi il neurochirurgo scrap che dice valorizzare di più la ricerca. Approfittiamo anche per ricordarvi gli appuntamenti di oggi su TV 12, la nostra locandina 17.45 come al solito pomeriggio calcio alle 21.15 per il meglio di in comune 2023. Torneremo a Spilimbergo. All'interno delle pagine del messaggero Veneto vediamo il tema della caro prezzi, l'abbiamo affrontato proprio domenica con le parole dell'assessore Bini che vengono richiamate quest'oggi sul patto antirincari, ristoratori e albergatori contengano gli aumenti. E poi ancora per quanto riguarda il fronte turistico con la sponsorizzazione all'Udinese, il tema che ha visto protagonista la regione, l'accordo con Promo Turismo che è stato presentato proprio domenica allo stadio. Andiamo sulla prima pagina dedicata alla città di Udine, il tema del caldo, nel padiglione 8 piano per trasferire 40 pazienti, temperature vicine ai 30 gradi, l'impianto è datato, se il caldo continua li sposteremo al 9, queste le decisioni dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Parla Scrap con il direttore di neurochirurgia che ripercorre quasi 50 anni di carriera, il cervello mi appassionava fin da bambino, per questo scelsi il latino, continua a lavorare in Friuli, si fa sistema valorizzando la ricerca. Sempre per quanto riguarda la città si parla delle ciclabili, l'abbiamo visto nell'intervista che abbiamo raccolto nella giornata di lunedì al sindaco De Toni, le quattro ciclabili per collegare Udine con i centri dell'Interland. E poi si ritorna sull'omicidio nella Galleria Alpi, la procura ordina nuovi rilievi, la polizia scientifica è tornata sul luogo in cui all'alba del 15 aprile scorso è stato ucciso il senza tetto Lucatisi, svolti accertamenti sulle tracce di sangue dove fu commesso il delitto e sui cartoni usati come giaciglio. Per quanto riguarda invece la situazione del caro affitti, un tema che è ritornato d'attualità in queste giornate che ci porteranno poi all'avvio dell'anno accademico con l'Unione degli Studenti che è tornata a chiedere interventi specifici per quanto riguarda proprio la città di Udine. A fine agosto escono i nuovi dati di immobiliare.it che ci restituisce un quadro che effettivamente è quello che stiamo denunciando da diversi mesi e anni, ovvero l'aumento degli affitti. Anche quest'anno sono aumentati nuovamente i canoni di locazione anche per gli affitti privati per gli studenti universitari. Vediamo un aumento che in due anni è stato del 15%, solo quest'anno è il 9% in più. È vero che c'è stato un aumento post pandemia ma a Udine noi vediamo che c'è una crescita dei costi dopo la chiusura della casa dello studente, quindi siamo attorno al 2017-2018. Da lì c'è stata una vera e propria impennata dei costi di locazione che si è abbassata durante il periodo pandemico, ovviamente non c'era richiesta da parte degli studenti e adesso nuovamente sta impennando a dei ritmi che forse a Udine non abbiamo mai visto. Che cosa potrebbe succedere rispetto a questo incremento dei prezzi? È evidente che secondo noi l'Università di Udine potrebbe perdere di attrattività. Il nostro Ateneo, che è ovviamente un buon Ateneo sotto il punto di vista didattico, ma è un piccolo medio Ateneo rispetto al panorama italiano, è anche ricercato rispetto a quella che è la capacità della città di offrire dei servizi e offrire delle case. È evidente che se anche a Udine paghiamo gli stessi prezzi di tante altre città italiane potrebbe accadere che l'Ateneo di Udine non sia più così attrattivo. Si prospetta anche la possibilità di un nuovo incontro con le istituzioni, la Regione, l'Università, il Comune. Quali sono le vostre speranze e quali sono le cose che chiedete alle istituzioni? Ci siamo lasciati ad inizio estate, siamo stati molto contenti di essere ricevuti dall'Università, dal Comune e dalla Regione. Lì è stato iniziato un confronto rispetto alla problematica sia delle case dello studente, che quindi ricordiamo via l'Ungheria chiusa da dicembre del 2017, sia relativo forse al tema un pochino più ampio che è la questione dell'innalzamento dei prezzi. Ci siamo lasciati dicendoci che ci saremmo rincontrati in autunno, quindi noi adesso cercheremo di prendere nuovamente contatto con le istituzioni e speriamo di poter intavolare un discorso serio e reale che vada incontro alle esigenze delle famiglie, incontro alle esigenze degli studenti, perché con questi incrementi dei prezzi è veramente alto il rischio che Udine non sia più una città che possa offrire uno spazio anche per la nostra generazione e anche per i nostri studenti. Ora andiamo a vedere l'apertura del piccolo nell'edizione di Gorizia. Il titolo richiama quello che abbiamo visto anche sul Messaggero dagli hotel ai locali, la Regione contro il caro prezzi con l'assessore Bini che dice che certi aumenti sono inaccettabili. E poi c'è il patto dei Balcani per l'Ucraina con la foto di gruppo che accomuna i vari leader che stanno cercando appunto un rilancio assieme. Dal piccolo andiamo a vedere anche l'apertura del dorso dedicato alla città di Gorizia, palazzi e terreni messi in vendita al comune in cassa 600 mila euro. La pittere al Ministero della Giustizia, Villa Ritter affittata a Isa Ambiente, venduti anche una ventina di lotti tra campi, boschi e vigneti. Ed ora è tempo di sport, andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani sportivi che celebrano su tutti l'oro ai mondiali di Budapest di Tamberi. Jim Boom scrive il Corriere dello Sport, eccolo qua di taglio alto, fantastico campione del mondo, l'azzurro trionfa nel salto in alto arrivando a 2.36 e fa lo show, festa con il bagno nella vasca dei 3.000 siepi, Malagò che fenomeno, viva l'Italia. Per quanto riguarda invece il calcio e il mercato, Lukaku, Vlaovic, Rieccoci, a Roma scoppia la febbre Romelu. A nove giorni dalla chiusura del mercato la Juve e il Chelsea si riparlano di taglio basso, Pulisic e Di Balas, Caccomatto, i due campioni di Milan e Roma hanno un hobby in comune. E poi il tutto sport, Mondo Jimbo, l'estate con la vittoria di Tamberi, l'oro mondiale dopo quello olimpico, il volley, Torino che trascina le azzurre, il calcio, Vendiken, poi Berardi o Morata, non solo Lukaku, Juve in azione. Di taglio basso, ansia per il Kaiser e Pep d'urgenza sotto i ferri. Beckenbauer sta male, Guardiola ha operato la schiena, il City lo riavrà a metà settembre. Sangue e lavoro, Union in Champions, grazie ai tifosi. Il miracolo di Berlino dalla quarta serie all'Europa, storia di una passione popolare senza uguali. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Eccolo qua, di nuovo. Tamboro, questo è il gioco di parole scelto nel titolo, il mondiale dopo l'Olimpia dell'Azzurro salta nella storia la magia con 2,36 che conquista il titolo che gli mancava. Il bacio con la moglie la dedica al papà, con lui non parlo più ma è anche merito suo. E poi ancora il calcio, la Juventus, Max e Conte, quante analogie, voglia di rivincita, gioco, niente coppe. Il Milan, il diavolo in noi, Pulisic e i renders da record del Milan, vuole anche chitiche di taglio basso. Poi l'Inter con lo sprint Pavard per Cagliari, Sanchez spinge fuori corre a Lukaku, dove ti piazzo, viene offerto in tutta Europa ma nessuno se lo prende. Andiamo a parlare di Udinese ora con le pagine sportive dei quotidiani locali. Sul Gazzettino il titolo Samarzic bufera con la gente, il padre sbotta, Pimenta se è intromessa nella trattativa, il giocatore più vicino alla permanenza l'Udinese, la ricostruzione, voleva l'Inter ma è mancata la comunicazione, ora può crescere in Friuli. Andiamo ad ascoltare proprio dal proposito il servizio della nostra relazione sportiva che ci racconta anche poi la ripresa degli allenamenti dei bianconeri. L'Udinese si è goduta la giornata di riposo a due giorni dalla sfida con la Juventus dopo essersi allenata subito nella mattinata di lunedì per una seduta di scarico. 24 ore di libertà per dimenticare in fretta il capo contro la vecchia signora ed evitare un overthinking che avrebbe probabilmente soltanto fatto peggio. E quindi nel frattempo in attesa della preparazione che porterà alla già delicata sfida contro la Salernitana in programma lunedì prossimo continua a tenere banco il mercato e in particolare continua a tenere banco la telenovela Samarzic con il padre della giocatore che ha deciso di aprire un'altra puntata raccontando la sua versione in esclusiva ai canali di Sport Italia. Una versione che va in controtendenza rispetto a quanto era stato fatto trappelare fino ai giorni scorsi. Insomma secondo Samarzic senior non sarebbe stato un problema di commissioni ma semplicemente una complicazione nata dal fatto che la trattativa con l'Inter era stata portata avanti da un procuratore che non aveva il diritto di trattare per conto di Lazar. Saputo questo poi le trattative quindi sarebbero state interrotte con la procuratrice brasiliana che non avrebbe quindi più tenuto il comando dell'operazione e con Lazar che di fatto è finito di nuovo ad Udine. Noi la verità non la sappiamo sappiamo solo che il padre ha confermato la volontà di rimanere tranquillamente un altro anno in Friuli qualora non dovesse arrivare l'offerta giusta per il club e per il calciatore stesso. Tradotto se resta siamo tutti contenti compreso il ragazzo che ha dimostrato impegno e professionalità anche contro la Juventus quando da solo ha cambiato il volto al centrocampo delle zebrette. Per il resto mancano dieci giorni alla fine del mercato e tutto può ancora accadere. Sempre dalle pagine sportive del Gazzettino l'altra notizia il record di giocatori stranieri ma il mercato premia Pozzo. Domenica il numero di non italiani impiegati è salito a quota 223 nella storia del club. Dalle pagine sportive del Gazzettino a quelle del Messaggero Veneto andiamo a ritrovare i temi legati all'Udinese. Eccoci qua Samarzic via solo se sarà un affare per due l'entourage del serbo. Busa alla porta della Lazio e della Fiorentina ma non è necessario che parta per forza quest'anno. Pozzo vuole 30 milioni nella possibilità di sostituirlo o resterà. Le altre trattative l'Inter ora vuole cedere Correa a riavere Sanchez. Il botta e risposta l'abbiamo sentito poco fa tra papà Mladen che disconosce la pimenta e che ribatte. Ho brindato con lui. E poi ancora Beto rimane bloccato dal mercato e da Brenner. All'Udinese non sono arrivate offerte vicine ai 35 milioni neppure dalla Premier. Il portoghese è imprescindibile perché il sostituto brasiliano starà fuori fino ad ottobre. Gli altri sport andiamo all'atletica. Abbiamo visto la vittoria di Tamberi dopo l'oro olimpico. Si prende anche l'oro ai mondiali nel salto in alto. Il suo è un grande slam avendo conquistato anche l'Europa e tutti i titoli indoor. Vediamo ora il basket. L'Apu, la prima giornata a Tarvisi. Overtemati la spreme subito. I bianconeri hanno cominciato il ritiro che proseguirà tutta la settimana. Domenica alle 18.30 la prima amichevole al Carnera contro l'Akland University. A Cividale invece la gesteco da venerdì si allenerà a Lignano. Sabato arriverà a Redivo. E poi il ritorno, il ricordo di Zorzi. Venerdì i funerali a Gorizia. Anche Ciani lo ricorda. E poi Cescutti, Dorigo, Vittori, Malga. Il basket che fu. Si ritrova in carne. Giornata di ricordi sopra Socchieve. Tra alcune vecchie glorie del basket friulano. Noi ci fermiamo qui. La nostra rassegna stampa è terminata. Vi ricordiamo gli appuntamenti di giornata su TV12. Torneremo live con l'informazione a pranzo alle 12.00. poi nel pomeriggio alle 16.00. L'appuntamento con pomeriggio calcio alle 17.45. E ancora i notiziari serali. E alle 21.15. Tag in comune dedicato, come detto, a Spilimbergo. Vi lasciamo le previsioni del tempo. Grazie per averci ascoltato. Buona giornata. Amici di TV12, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano nella giornata di mercoledì continua a garantire condizioni di prevalente stabilità atmosferica sulle friuli Venezia Giulia, eccetto qualche rovescio verso la fine del giorno sui settori montuosi. Caldo davvero intenso. In dettaglio diamo uno sguardo alla situazione attesa sulle province di Udine e Pordenone. Sole protagonista tra mattina e pomeriggio, specie sulle zone pianeggianti. In serata segnalo l'arrivo di qualche rovescio sui settori montuosi. Clima molto mite al primo mattino con minimi intorno ai 25-26 gradi. Molto caldo nelle ore pomeridiane con punte di 37-38 gradi. Da segnalare anche in molta affa. In dettaglio sul Goriziano e sul Triestino. Anche qui non mancheranno ampi spazi soleggiati per l'intera giornata con ampie schiarite. Minime intorno ai 25 gradi su Gorizia, 27 gradi su Trieste. Punte di 36-37 gradi all'ombra nelle ore pomeridiane. Possibile cambiamento poi dalla giornata di domenica. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. Grazie. Grazie.